Ultimamente mi stanno arrivando molte domande a proposito del tipo di acqua che utilizzo nei miei acquari. Ad esempio, con cosa riempi l'acquario? Che tipo di acqua deve avere un pesce? Ma l'acqua dell'acquario non è acqua di rubinetto? E ancora, va bene se il mio acquario lo riempio con acqua di bottiglia? Dunque oggi rispondiamo a queste domande. Nei miei acquari utilizzo acqua di rubinetto decantata. Ma cosa vuol dire decantata? Beh, semplicemente si tratta di acqua lasciata per 24-48 ore all'interno di secchi o vasche prima di essere inserite in acquario. In questo modo, nell'arco delle 24 ore, il cloro andrà ad evaporare e l'acqua sarà sicura per il nostro acquario. Nel caso in cui non si abbia spazio o tempo per far decantare l'acqua all'interno dei secchi, possiamo utilizzare i classici biocondizionatori che troviamo in commercio.